Musica Morì a pochi passi dall'ospedale veneziale di Sernia i risultati dell'autopsia fanno luce sul decesso di Pasquale Cifelli sarebbe stato stroncato da un infarto. Penafro il governatore Francesco Roberti ha firmato il decreto con il quale si prorogano le disposizioni per vietare il transito ai mezzi pesanti. Degrado in un locale dell'ospedale veneziale, al suo interno una fogna a cielo aperto da cui fuoriescono verme e insetti, la denuncia di Milo Izzo. Un'autosospetta è stata bloccata dai carabinieri di Larino dopo un lungo inseguimento denunciato a un pregiudicato trentenne. In anteprima il trailer del cortometraggio in onda prossimamente sul canale 12 che avrà come protagonisti i bambini della scuola elementare di Rocchetta al Volturno. Buonasera, ben trovati all'appuntamento con l'informazione di TV Molise. Morì a pochi passi dall'ospedale veneziale di Sernia. I risultati dell'autopsia fanno luce sulla vicenda. Pasquale Cifelli è deceduto per un infarto. Il servizio di Antonio Leone. Un infarto fulminante dovrebbe essere questa la causa della morte di Pasquale Cifelli, l'uomo che un anno fa ha perso la vita proprio qui in questo posto lungo via Sant'Ippolito. Pasquale Cifelli era appena uscito dal pronto soccorso dell'ospedale veneziale che si trova a poche centinaia di metri da qui e proprio in questo posto si è accasciato a terra. Per lui inutili i soccorsi. A far luce sulle cause del decesso, la perizia depositata dal medico legale dopo l'autopsia effettuata sul corpo del 76enne di Castelpetroso. Era il primo pomeriggio del 16 marzo del 2023, quando l'uomo portatore di pacemaker era stato accompagnato in pronto soccorso dopo aver accusato un malore. Preso in carico dai sanitari che quel giorno erano in reparto, sarebbe stato sottoposto ad alcuni esami medici. Intorno alle 19 di sera, però, prima ancora delle dimissioni, sparisce inspiegabilmente dal reparto mentre i suoi familiari lo attendevano nella sala d'aspetto, poche centinaia di metri, e poi si accascia a terra inutili soccorsi di alcuni passanti e dei sanitari del 118, questi ultimi arrivati da Venafro perché l'ambulanza di Sernia era impegnata in un altro intervento. Da quel giorno i familiari del 76enne continuano a chiedere giustizia, vogliono saperne di più su quanto accaduto. Anche la procura di Sernia sta tentando di chiarire l'intera vicenda. Un sanitario è iscritto nel registro degli indagati, ma si tratta di un atto formale. Le indagini, infatti, ancora non sono concluse e gli inquirenti dovranno capire se ci siano state delle responsabilità professionali o se si sia trattato di un evento imprevedibile. E ci spostiamo ora a Venafro perché il governatore Francesco Roberti ha firmato il decreto con il quale si prorogano le disposizioni per vietare il transito ai mezzi pesanti su Corso Campano e Via Colonia Giulia. Il provvedimento si è reso necessario per ridurre l'inquinamento atmosferico. Vediamo il servizio di Cristian Cialante. Il governatore Francesco Roberti ha firmato ieri il decreto con il quale si prorogano le disposizioni per vietare il transito ai mezzi pesanti su Corso Campano e Via Colonia Giulia. Il provvedimento si è reso necessario per ridurre l'inquinamento atmosferico e prevenire i pericoli per la salute nel centro abitato. Inquinamento i cui livelli hanno da tempo superato i limiti prescritti dalla legge per quanto riguarda il biossido di azoto e il PM10. Il provvedimento anticipa anche che si intensificheranno le attività di monitoraggio e controllo della qualità dell'aria della piana attraverso ARPA Molise. Il provvedimento della durata di un anno prevede nello specifico che in corrispondenza dell'intersezione tra la SS85 Penafrana e strada statale 6 di Ramazione via Casirina, Quadrivio, Via Colonia Giulia, Corso Campano nel centro abitato di Penafro, transito vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 6,5 tonnellate, in ingresso in Molise dalla strada statale 6 direzione eserne a Campobasso a Castel di Sangro, ad eccezione degli autobus di linea. Al comune di Penafro spetta garantire tutte le azioni indispensabili a limitare la sosta degli autoveicoli, lungo Corso Campano e Via Colonia Giulia. Al sindaco il potere derogatorio al divieto in ragione di motivate necessità correlate allo svolgimento di attività produttive e di sicurezza stradale. E' stato rinvenuto un ordigno bellico nel cantiere dell'8-0 dell'Isernia Castel di Sangro, si attende l'arrivo degli artificieri, noi siamo andati sul posto. Contrada Cisterno, territorio comunale di Miranda, ci troviamo sul cantiere dell'8-0 dell'Isernia Castel di Sangro, dove è stato rinvenuto un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Tra qualche giorno arriveranno i militari del genio civile che provvederanno a recuperare la bomba e a farla brillare in un luogo sicuro. Il ritrovamento è avvenuto mentre un escavatore stava sbancando una parte di terreno. Immediatamente allertati i carabinieri che giunti sul posto hanno provveduto a mettere in sicurezza l'intera area. Attualmente in quella zona lavori fermi in attesa che l'ordigno venga rimosso. Ma intanto sulla vicenda interviene anche il Partito Comunista dei Lavoratori, che chiede ai sindaci di Sernia, Pesca e Miranda di effettuare ulteriori controlli sull'intera area dove sarà realizzata l'arteria stradale. Insomma, secondo Tiziano Di Clemente, bisognerà verificare l'eventuale presenza di altri ordigni bellici, non da meno, sempre per il PCL, necessario l'intervento dell'Ispettorato del Lavoro. La priorità, infatti, dovrà essere quella di mettere in sicurezza tutti i lavoratori che operano nel cantiere. A pochi giorni dall'inizio dei lavori, insomma, un primo stop alla realizzazione di un'opera del valore complessivo di oltre 134 milioni di euro. L'operazione di lotta allo spaccio di stupefacenti a Campobasso, denominata Gli Intoccabili, fu portata a termine nell'ottobre del 2020. Ora è arrivata la condanna ad otto mesi di reclusione per uno dei coinvolti nell'operazione. Vediamo il servizio di Francesco Adamo. Il mondo della droga e il traffico di cocanina nel centro della città di Campobasso e nel centro storico. Blizza antidroga, condotto dalla compagnia Carabinieri di Campobasso, sul finire del 2020, denominata Gli Intoccabili. Condanna ad otto mesi per uno degli uomini coinvolti. Come riportato al quotidiano primo piano, l'assistito dell'avvocato Letizia Di Lena, al quale erano stati contestati ben sei episodi legati all'attività di spaccio, per cinque scattata la soluzione per non aver commesso il fatto per un solo episodio, invece scattata la condanna a otto mesi di reclusione. L'importante operazione dei Carabinieri, fatta di pedinamenti, perquisizioni, aveva portato a tre misure cautelari 29 indagati e 40 decreti di perquisizione. L'operazione divenne nota anche per la particolare cessione della sostanza stupefacente cocaina, marijuana ed hashish, che veniva erogata ad ogni ora del giorno tramite una fita rete di consegna a domicilio. Le dosi venivano ordinate telefonicamente tramite chat, il centro storico, il fulcro della rete di spaccio, anche per la difficoltà da parte delle autorità nel presidiarlo. Le stesse abitazioni dei trafficanti diventate vere e proprie basi logistiche per il taglio e la preparazione delle varie dosi da vendere. Nel corso dell'operazione furono sequestrati circa 150 grammi di cocaina, circa 340 dosi, con oltre 3.000 cessioni di stupefacente documentate. Degrado in un locale dell'ospedale veneziale. Al suo interno una fogna a cielo aperto da cui fuoriescono vermi ed insetti. Questa è la denuncia di Emilio Izzo. Ascoltiamo le sue parole in questa intervista. All'interno dell'ospedale di Sernia una fogna a cielo aperto coperta da due lamiere e intasata di pannoloni da cui fuoriescono insetti e vermi è quanto accade in un locale in passato adibito a lavanderia che si trova a pochi passi dalla mensa ospedaliera e dalla farmacia del veneziale. È Emilio Izzo del comitato in seno al problema a diffondere le immagini e a denunciare lo stato di degrado e abbandono in cui versa l'ala del presidio sanitario, un'area che viene frequentata quotidianamente da utenti e personale all'interno del locale. Come testimoniano le immagini, trasporcizie e materiale accatastato presenti anche macchinari e persino dispositivi medici sterili. Non è un'ala dismessa, questo è un pezzo dell'ospedale dove noi troviamo ancora cose che vengono utilizzate, materassi, panni puliti, da lavanderia. In un locale che era la stireria, fiore all'occhiello di questo nosocomio, qui gravidano persone, persone che passano, vengono con le carriere di prendere, in quello che abbiamo visto che è qualcosa credo di vergognoso. Sono arrabbiatissimo, ci rendiamo conto con due lamierette appoggiate sopra, intassate di pannoloni, di garze, di qualsiasi cosa e tutto questo ha un passo dai locali farmacia, dai locali menza, dai locali cucina, ma ci rendiamo conto. Ora Izzo chiede un intervento urgente del nucleo antisofisticazione per accertare l'eventuale carenza di norme igienico-sanitarie e soprattutto per sanificare l'intera area. Spero che intervengano, o fanno loro d'ufficio o li chiamo io, i NAS, va rimosso immediatamente questo, va sanificato e vanno riaperti i locali. Le organizzazioni sindacali sollecitano un incontro con il prefetto di Sernia per approfondire le questioni non risolte della Exolinever. Lo fanno con una nota congiunta indirizzata anche alla Regione. Ce ne parla il direttore Enzo Di Gaetano. Vertenza Unilever, i sindacati chiedono l'intervento del prefetto per sbloccare i ritardi di Invitalia. Lo fanno attraverso una nota congiunta indirizzata anche alla Regione e ai sindaci dei comuni dove risiedono i lavoratori. CGL, CISL, Will e CISAL congiuntamente affermano che lo stabilimento dell'ex Unilever è interessato da un contratto di sviluppo per riconversione industriale presentato dalla società P2P che darà continuità occupazionale a tutti i lavoratori. Da più di due anni però il contratto di sviluppo per la riconversione è fermo in attesa della determina da parte di Invitalia per la congestione dei fondi che permetteranno l'avvio degli investimenti e quindi delle attività produttive della società P2P. Il 6 febbraio, su richiesta sindacale, si è tenuto un incontro con l'assessore alle attività produttive di Lucente al fine di sollecitare un incontro presso il Ministero per conoscere i motivi del ritardo della delibera. I lavoratori della Regione meritano, affermano i sindacati, di ricevere le stesse attenzioni e risposte da parte delle istituzioni governative nazionali, così come avviene normalmente per le altre regioni d'Italia. Per questo chiedono un incontro urgente con il prefetto di Isernia, quale organo di governo sul territorio per approfondire le questioni non risolte e sollecitare al Ministero la determina di Invitalia. Sesto Campano e Comune Cardioprotetto, il sindaco Eustachio Macari ha rilasciato un comunicato in cui afferma che sabato 2 marzo saranno collocati nel territorio comunale tre nuovi defibrillatori. I dispositivi verranno collocati in Piazza Romandino, in Sesto Campano Pianura, in Piazza Ponte a Roccapipirozzi Alta e in Piazza Lucato a Roccapipirozzi Bassa. Un'auto sospetta è stata bloccata dai carabinieri di Larino dopo un lungo inseguimento, denunciato un pregiudicato trentenne trovato in possesso di Arnesi atti allo scasso. Vediamo il servizio. I carabinieri della compagnia di Larino hanno denunciato alla Procura della Repubblica un pregiudicato per i reati di resistenza e possesso di oggetti atti allo scasso, proponendo alla questione di Campobasso il foglio di via con diveto di ritorno per motivi di pubblica sicurezza. In particolare, durante il servizio di controllo del territorio, gli uomini dell'arma hanno intimato l'Alt ad un'autovettura con a bordo quattro persone. Il conducente però ha forzato il posto di blocco, dando origine ad un follo inseguimento. La macchina è stata abbandonata dopo pochi chilometri. Tre persone sono scappate nelle campagne circostanti, mentre il quarto uomo, nonostante avesse anche lui tentato la fuga, è stato fermato dai militari. Si tratta di un trentenne pregiudicato della provincia di Foggia. In macchina sono stati ritrovati Arnesi da scasso, radioline tipo walkie-talkie e un passamontagna. L'uomo è stato denunciato. La regione molise può vendere l'immobile dell'ex Roxy a chi vuole e l'acquirente potrà farne ciò che vuole. Infatti la società del ministero, Invimit, interessata alla realizzazione di posti letto per gli studenti, libera la regione dagli obblighi derivanti dalla manifestazione di interesse. L'ex Roxy, la sua destinazione, continua ad alimentare le polemiche. Sulla questione alta l'attenzione della consigliera regionale del PD, Alessandra Salvatore, che ha presentato una interrogazione al presidente Roberti. La risposta del presidente è arrivata, purtroppo alimentando le preoccupazioni della consigliera e di quanti hanno avviato questa crociata contro la cementificazione. Fotografiamo la situazione. La Salvatore dice che la regione può vendere l'immobile a chi vuole e l'acquirente potrà farne ciò che vuole. Questa affermazione deriva dal fatto che con la delibera 259 del 2023 la giunta regionale aveva disposto l'inserimento dell'ex hotel Roxy nel piano delle allineazioni immobiliari, distogliendolo dalla destinazione prevista e rendendolo quindi bene vendibile. Questo sulla scorta dell'opportunità di partecipare all'avviso bandito dalla Invimit SGR che avrebbe potuto selezionare l'immobile per destinarlo prevalentemente a funzioni di student housing, quindi case dello studente. Il 5 febbraio 2024 è giunta una PEC con cui Invimit SGR ha comunicato ufficialmente che considerando le finalità dell'avviso e la tempestività della procedura, la SGR non ha incluso al momento l'asset fra gli immobili target. Resta inteso che il vostro ente è da considerarsi liberato dagli obblighi e vincoli derivanti dalla manifestazione di interesse presentata in relazione all'immobile. Quindi, effettivamente, nulla ostocolerebbe il futuro acquirente dell'ex Roxy a farne ciò che vuole. Anche la costruzione di un palazzo imbarba alle belle intenzioni e alla volontà manifestata dai cittadini di aria verde. E allora, mobilitazione cittadina, ha annunciato la consigliera Salvatore per scongiurare la cementificazione sull'ex Romagnoli e la speculazione immobiliare sull'area dell'ex albergo. Le previsioni emerse nell'incontro dall'anno dalle radici al prodotto per i turisti delle radici tenutosi a Campobasso e promosso da Confcommercio Molise e Conf Turismo lasciano ben sperare per oltre 3.000 imprese turistiche che in Molise danno lavoro a oltre 10.000 dipendenti. Questo flusso, lo afferma Corti, ha un valore da noi calcolato potenziale di 8,5 miliardi di euro annui. Riproporzionando tutto questo sul Molise vuol dire un'opportunità tutta da sfruttare. Bambino affetto da favismo per tutelarne la salute, il sindaco di Campobasso vieta la coltivazione di fave nei campi in prossimità dell'abitazione e della scuola. Da Campobasso una storia delicata che ha a che fare con un'ordinanza del sindaco e delle fave. Cosa c'entrano l'aspro legume e un provvedimento sindacale con la delicatezza, direte? In realtà, come altro definire la decisione del massimo inquilino di Palazzo San Giorgio di vietare la coltivazione di fave nei terreni in prossimità dell'abitazione del piccolo Marco, nome di fantasia? Dagli orti fino a 300 metri di distanza, da una certa casa di via Pirandello, ma analogo divieto esteso all'area adiacente alla scuola Petrone, frequentata dal bambino, scompaiano la pianta in questione e i suoi derivati, l'ordine di Paola Felice. Questo perché Marco è affetto da favismo, una malattia genetica. Chi ne soffre, solo in Italia sono 400.000, non può mangiare questo legume. Nei casi più gravi il rischio è quello di anemia acuta, ovvero di distruzione improvvisa dei globuli rossi. Per evitare che Marco, troppo piccolo per avere contezza del rischio, possa, vedendole, avere il desiderio impossibile da pagare di mangiarne, la drastica e, come dicevamo a nostro avviso, delicata decisione presa dal primo cittadino, ci piace pensare con l'assenso di tutti i cittadini, anche degli ortolani destinatari in prima persona della restrizione. Un'altra cosa che ci fa piacere immaginare, anzi sperare, questa anche più importante, è che a Marco non piacciono le fave. E ora vi mostriamo in anteprima il trailer del cortometraggio che andrà in onda prossimamente sul canale 12 e che avrà come protagonisti i bambini della scuola elementare di Rocchetta al Volturno in visita al Museo Internazionale delle Guerre Mondiali. Vediamo. Buongiorno cari telespettatori di TVI Molise, vogliamo farvi conoscere uno dei complessi museali militari gestito magistralmente dai signori Filippo e Johnny, che ringraziamo tanto per averci ospitato. Gli uomini imparano a odiare e se possono imparare a odiare, possono anche imparare ad amare, perché l'amore per il cuore umano è più naturale dell'odio. E adesso andiamo al touchscreen con Antonio Leone per il nostro aggiornamento sulle principali notizie delle ultime ore dall'Italia e dall'estero. Antonio. Sì, grazie Antonia. Partiamo da Anza.it, in particolare dal Medio Oriente. Spari sulla folla in fila per gli aiuti a Gaza. 104 morti, USA, incidente grave. ANP è uno spreggevole massacro, ma Israele insiste. Stavano saccheggiando gli aiuti. Ci spostiamo su ADN Cronos, su questo fatto di cronaca. Donna uccisa a Padova, recuperato furgone a Bovolenta. Dentro c'è il corpo di un uomo. Potrebbe essere il cadavere del marito, ma non è ancora stato identificato. E poi ci spostiamo su TG Com 24, un'altra guerra, questa volta quella in Ucraina, Putin all'Occidente. Voi portate alla guerra nucleare, le nostre armi possono raggiungervi consegnato all'esercito. Il missile Sarmat Kiev nelle ultime 24 ore. Si sono verificate oltre 100 attacchi frenetici dell'esercito russo lungo tutta la linea del fronte. E infine questo scoop di Sky TG 24, Veronica Alario a Sky TG 24, non sono ricattabili. Le anticipazioni, l'attrice ed ex moglie di Silvio Berlusconi, parteciperà per la prima volta in assoluto a un programma televisivo. La puntata del Dinner Talk a cena da Maria Alatella andrà in onda venerdì 1 marzo alle 21 sul canale All News. Ecco alcune anticipazioni. Antonia, queste erano le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Ti restituisco la linea. Grazie Antonio. E con questo aggiornamento è davvero tutto. Noi ci fermiamo qui. Grazie per averci seguito. Ora linea all'Aquila per le notizie dell'Abruzzo. Grazie a tutti.